Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Ilari Blasi e Silvia Toffanin sono due conduttrici di punta di Canale 5 con una splendida carriera alle spalle e tante opportunità davanti a loro. Adesso ci sarebbe nell'aria un progetto che le riguarda. Di che cosa si tratta? Ilari Blasi ha concluso da poco e più che gloriosamente l'ultima stagione dell'Isola dei famosi che quest'anno, per la prima volta in 16 anni, ha ottenuto il prolungamento di un mese. Anche Silvia Toffanin però è andata benissimo con Verissimo, continuando ad appassionare milioni di spettatori con le sue storie. Ma quali novità ci sono in serbo per loro? Ilari Blasi e Silvia Toffanin, cosa c'è all'orizzonte? Ilari Blasi ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico al fianco di Fabio Fazio in che tempo che fa. Lì lei si occupava del lancio dei vari collegamenti con gli inviati della trasmissione. Nel 2006, insieme a Victoria Cabello e Giorgio Panariello si è cimentata nella conduzione del Festival di Sanremo. Sempre in quella fortunata annata è stata alla guida del Festival Bar con il Mago Forest e Cristina Chiabotto. Più di recente, invece, è stata al timone dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria di Nicolà Vaporidis, dato per favorito da settimane. Silvia Toffanin è a sua volta una presentatrice di grande talento, originaria di Marostica, ha cominciato a lavorare come fotomodella fin da giovane. Nel 2002 ha partecipato a Non Solo Moda, dove è rimasta fino al 2009. Dal 2006, invece, tiene le redini di Verissimo, un talk show che va in onda sia il sabato che la domenica. Oltre al fatto di essere due stelle di Mediaset queste due donne hanno in comune un'esperienza come vallette a passaparola, nel lontano 2001. Da allora sono rimaste amiche. Ma che cosa c'è in serbo per loro? Ecco tutti i dettagli al riguardo. Una magnifica chimica. Stando a quanto riportato su Nuovo TV da Riccardo Signoretti Pier Silvio Berlusconi avrebbe in mente una bella idea per far lavorare insieme Ilari Blasi e Silvia Toffanin. In realtà però non c'è ancora nulla di certo e probabilmente bisognerà attendere ancora un po' per conoscere tutti i dettagli del caso. Chissà, magari potrebbe trattarsi di un nuovo programma, di un game show o altro, certo è che i loro fan non vedono l'ora di vederle insieme. Come accennato queste due bravissime presentatrici sono colleghe, ma anche amiche di lunga data, da più di 20 anni, dunque la loro chimica è già certa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao